Salve, buongiorno, benvenuti sul canale Tradizioni e Sensazioni, il mio nome è Giovanni Danza. Questo è un canale che parleremo e approfondiremo i problemi e le varianti della rasatura tradizionale, varianti perché naturalmente abbiamo rasoi diversi, lame diverse, lamette diverse e naturalmente varianti tipi anche di creme e sapore da barba e cambiando questi elementi, associandoli fra loro, abbiamo delle varianti e quindi naturalmente dei risultati diversi che sono comunque diversi per ogni tipo di persona. Io ho abbandonato la rasatura tradizionale fatta e insegnata dal mio padre, dal mio nonno, con il rasoio a mano libera e io però ho sempre usato il rasoio di sicurezza per tantissimi anni, poi dopo l'ho abbandonato, ma come abbiamo fatto, penso, tantissime persone di noi per molti anni. Adesso io sono ritornato alla rasatura tradizionale, se vi fa piacere iscrivetevi, magari con la campanella e verrete avvisati sicuramente di un nuovo video e quando avrete voi e se ne avrete voi lo potete guardare. Vi ringrazio per l'attenzione, iscrivetevi, vi farà piacere e come dire, invoca al lupo!